Ciao a te e bentornato su Persona 3 Reload Mancano 23 giorni prima dello scontro finale contro soltanto notizie che dovrebbe essere la morte La fine di ogni cosa Io sono chiamato a contrastarlo Compiuto il condiviso? Sì, perché se no ricordo male ieri Esatto, nota del blog del credente Il cui autore scrive fanaticamente riguardo a Nix Tra l'altro chi? Chi ha spifferato questo? Vediamo dove porta questo indirizzo Il libro di Nix, sembra un sito per gli adoratori di Nix La fine che ci libererà dalla sofferenza vicina Siamo tutti sciocchi, perpetriamo paura e tristezza e permettiamo che ci controllino Ma Nix ci mostrerà la via, la grande Nix ci salverà tutti Addirittura il nome, lo chiamavano per nome Ma è che il blog non venga aggiornato da un po' Deve essere pronto per lo sconto che ci aspetta il 31 gennaio Gli SP sono aumentati di 5 Sto facendo tardi, buonanotte Sì, perché oggi si ritorna a scuola E se non ricordo male Oggi inizia il terzo quadrimestre Come potete sentire le musiche Hanno completamente cambiato Sono completamente cambiate le musiche Sentite queste note dolci Sento la gente che parla Hai sentito l'ultima su quella set? Non chiamarla così se non ne sai nulla E poi l'arrivo della caduta è un dato di fatto Ma che ne sapete voi? Beh, immagino che non possiamo fare nulla a riguardo Comunque per i compiti della seconda ora Ok Chi è stato così tanto pirla da spifferare tutto questo? Oh porca, mi sei felice Anno nuovo a tutti Le vacanze invernali sono passate Niente più alcol Ah già, siete minorenni Wow, mi dispiace per voi Ma visto che è un nuovo anno Ecco una domanda pertinente Vediamo Yuki-kun Massi Conosci il monaco chiamato IQ? E certo E' quello che è così famoso Che hanno fatto una serie basata sulla sua vita? Ovviamente Beh, questo è ciò che ha detto a proposito dell'anno nuovo Il nuovo anno ci indica il percorso verso un certo luogo Di quale luogo sta parlando? Che ne so Il nuovo anno? La seconda ora è la casa Ah, a casa Ovviamente andiamo tutti a casa No La risposta esatta è l'oltretomba Ma porca miseria Ma io non lo so ma la persona è tre Ma che problemi ha? E diceva cosa tipo La morte si avvicina E passanti che gli camminavano vicino Comunque se volete saperne di più su queste cose antiche Chiedete a Ekoda Ehm, voglio dire al professore Ekoda Bene, ora aprite libri Ok, la risposta era sbagliata Quindi sti cavoli Dopo scuola Più cari dove vai? Ne è passato di tempo dall'ultima lezione Gli insegnanti e compagni sembrano tranquilli Hai visto che Junpei era assente? Ai di sì Ho visto andare verso il tetto prima del rientro Forse ha deciso di saltare il primo giorno del quadrimestre? Che ne so Bip bip e bip bip Vuoi salire sul tetto? Sarebbe bello farci una chiacchierata lassù Ma per quale motivo? Sei libero giusto? Vieni sul tetto per un po' Ma perché? Sembra che sia Junpei che Yukari siano sul tetto Ho deciso di raggiungerli Ma per quale motivo? Oh, Yukikon Non avevo una ragione precisa per venire qui Mi è venuto distinto E ho trovato anche Junpei E' solo la tua immaginazione Se sono sulla stessa frequenza di Junpei E' meglio cambiare canale E' una bella giornata oggi, vero? Il vento è un po' freddino Ma questa brezzolina è fantastica La vista non è poi male da qui Mi immagino sia per questo che dà un senso di caldo Quasi non sembra che stia arrivando La fine Eh sì La revisione ricordi non riesce a tenere il ritmo Cominciano pure a saltare fuori delle sette Mi sa che non sarà uno di quei momenti tipo Era tutto un sogno Ok, c'è ancora tempo ragazzi Non buttatevi giù Faremo il possibile senza rimpianti Non mi metterò a dire cose di impatto tipo Voglio proteggere tutti ma Non sopporterei di vedere scomparire il tempo passato insieme Dovrebbero essere tramandate per generazioni E su questo beh ci sei andato vicino Almeno due Non eri tu che tenevi il muso e creavi i casini Ero giovane e passionale Sai sono cresciuto nel frattempo Vero Makoto No come Mi aspetto grandi cose da tutte e due Non vedo l'ora Chissà se nel frattempo sono cresciuta All'inizio eravamo solo noi tre no? Se me l'aveste chiesto l'epoca Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto Abbiamo passato così tante quest'anno Ma guarda il lato positivo Ora la nostra amicizia è più forte che mai no? Mi metti l'imbarazzo Ma in fondo non è andata così male Siamo arrivati fino qui insieme E la chiuderemo insieme Ce la faremo Cici Prendiamoli a calci E quei due strega Finora non hanno fatto niente Ma stanno di sicuro tramando qualcosa Dobbiamo occuparci anche di loro Mostriamo loro cosa sa fare il trio Cist Della seconda F Con voi al mio fianco Mi sento decisamente carico Oh Che c'è? Mi è appena venuto in mente Non restituisci mai nulla Devi ricordarmelo proprio ora Guardate un po' chi c'è Guardate un po' chi c'è Guardate un po' chi c'è Aigis Anche Kuka Un Kichi Maledizione Aigis è un nuovo social link Allora ne ho due da portare al dieci E poi beh Pazienza Club di arte Non ce la farò mai Quindi Aigis Era da un po' che non veniva a scuola So che non è il momento migliore Ma Ho una nuova prospettiva Su così tante cose Ok Aigis Ma Koto-san Hai impegni dopo la scuola oggi? Ehm Non lo so Se non ti dispiace Vorrei tornare a casa con te Perché con me? Ok Quindi A questo punto Posso tranquillamente Iniziare il social link Di Aigis Ho tempo fino al 31 Di gennaio Torniamo a casa con Aigis Grazie Oh ma prima di tornare al dormitorio Vorrei andare in un posto Andiamo Ultimamente vengo spesso qui Prima non capivo quali benefici Venissero dal frequentare questi santuari Ma di recente Ho cambiato idea Già Ora capisco il perché Sapeva che il suo padrone non c'era più Ma il desiderio di voler stare con lui L'ha fatto rimanere Io la penso come lui Ho accettato di non poterti proteggere Ma sono comunque tornata Inconsciamente Ho agito secondo le emozioni E non la logica Al tempo ero così confusa Al tempo ero così confusa Che non l'ho notato Ma è così Ma ci hai visto il tenue affetto di Aigis Boom Boom Wow Wow Creando persone dell'arcano Eone Oh Mi sono espressa male Ho parlato di persone Ma ovviamente io e Koromaru-san non siamo persone Scusa Scusa Non ce la fai Aigis Non ce la fai Aigis è sempre a malinconica Abbiamo deciso di tornare dal dormitorio Dopo scuola Sera Ciao Come è andata? Oggi la scuola sembra diversa rispetto all'anno scorso Ha una strana nostra scuola Non ti pare? Atmosfera Tanti studenti della mia classe parlavano di sette e altre cose strane Deve avere a che fare con l'arrivo di Nix Non possiamo perdere Superiamo il giorno fatidico Sì ma sta cosa di Nix Non capisco Chi l'ha spifferata? Mappa della città Yukari e Ken Yukari vuole mangiare Ken vuole guardare il film E io? Che devo fare io? Mappa della stanza Insomma non c'ho nullissimo da fare qua No Aigis è ancora a livello 1 Quindi figurati Non sembra che Amada possa fare cose Oh Suppongo che siamo troppo belli Però stasetta Stasetta Sicuramente Cioè Ovviamente Anche abbastanza logicamente Credo sia opera Della Degli strega Non sembra che Yukari possa fare cose Magari un'altra volta Che dici? Ok Mappa della stanza Andiamo a Polonia Anche perché Della baccheca con informazioni belle Questa moneta Sembrano preziosi Ragazzi di oggi sono ricchi A ogni modo L'avete salvata voi Quindi sono poste La moneta scintillante Bravo rubino Tra Prendiamo io già Oh mio dio Andiamo tutti 40.000 Scendi Sì Siamo Ok Andiamo al negozio Di antiquariato Ok Di equipaggiamento Guscio della luna Morta Questa è potentissima Cato non possa Prendere niente Neanche qua Frammento di re creato Il bianco invece Nada Kunai sotterraneo Scusa un secondo Ciccia Ma padre No Che sto facendo? Missioni A me serve Un tombokiri 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 Che sarebbe Non qua Tombokiri Tombokiri Non è qua Non è neanche qua Non è neanche qua Cosa sei Oh Tombokiri 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 303 Lancia che protegge Chi la usa Dalle alterazioni Mentali Pera Amata Inmediata Amata Yap Lasciami il negozio Cici Elisabeth Si grazie mille Sì grazie mille A proposito delle richieste Tieni la Tombokiri Modello Nichil nero E in pratica Le ho fatte tutte Tranne Te Cioè che non posso Picchiarti Poi non so Se magari Le ho fatte tutte Ti stai zitta 5 5 6 8 9 100 101 Sì ma Praticamente Manca soltanto Quella Eh non Mi Ti serve Altro Care Cosa Bambole Di Jack Frost Eh già Ce l'ho Vabbè Oh Aumentiamo L'agilità Di qualunque Cosa Io Stabbia Sì bravo Che non è esattamente Professionale Ma Chi se ne frega Pam 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 Ah yes Di nuovo Fuka Yuko E Ayes Il problema È che Ho Allora Io leone Ce l'ho Vero Non ce l'ho Bellissimo La forza Ce l'ho Non ce l'ho Bellissimo Tra l'altro E la papessa Però ce l'ho Quindi devo andare Alla stanza di velluto A prendere Forza E Eone Anche se potrei Tranquillamente Fondere Le persone Evitando però Di fondere La papessa Tipo torre E stella Creando Sala Soltanze 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 Di diamanti Ma io si Ma io ti prendo Immediatamente Allora Danno da fuoco Pesante Danno divino Pesante Avente Precisione Del guru Riduce Attacco Difesa E tutto Quanto Di mezzo Il costo In HP Madonna Autoteracuia Mentre Temponale L'attacco Di chi usa Inizio Battaglia Plifica Chance Di critico Sei una potenza Tu figlio mio Per difesa Del gruppo Ma si Ma si Gioia mia Ma si Anche perché Poi impari Il Megidolean Sono Un mortale Senza paura Il tuo potere Ora sono io Insieme Osserveremo La fine Del mondo E credo Di sapere Chi porterò Contro Nix Megidolean Concentra Grazie Dando Il prossimo Attacco Magico Più che Raddoppiato Tu proprio No Riflette Vento Infatti È debole Il vento Però Riflette Vento Mi piace E come Se mi piace Ok Quindi Si Satana Scusa Ok Si Evochiamo Le persone Quindi Erano Forza E Eone Allora Prendiamo Kali Leone Che è l'ultimo E prendiamo Uriel Ma ce l'ho già Va bene Ma ce l'ho già Leone Ce l'ho già In effetti Allora È una forza E papessa Tra l'altro C'ho anche La fortuna In caso Nel caso Vabbè No Poi lo vediamo Allora Liceo Che è Koukan Aula Aidis Ancora Salve Makoto San C'è Del tempo Oggi Se non ti dispiace Vorrei di nuovo Tornare a casa Con te Non è Ragazzo Uriel Deve passare Il tempo Con Aidis Dopo la scuola Aidis Ha risvegliato Una consapevolezza Di sé Molto più Umana Non ha ricevuto Alcun potenziamento Fisico Ma qualcosa Dentro di lei È cambiato Passiamo Il tempo Con Aidis Grazie Grazie Infinite Prima di andare Potremmo fare Una deviazione Voglio andare Sul tetto Perché Sul tetto Mi piace qui Si vede Tutta la città Il Moonlight Bridge È sulla destra E di là C'è il centro Commerciale Polonia Sapevi che si vede Anche il dormitorio Da qui L'oceano di Yakushima In cui riposavo Era molto più Limpido Di queste acque Ma qui C'è una vista Più bella Prima di venire qui Non pensavo Neppure se mi sarebbe Piaciuto Il paesaggio O meno Tu invece Ti piace qui Mi piace qui Sì Prestiglina Che bello Sentirtelo dire Provare gli stessi sentimenti Guardare Lo stesso panorama È bello Gioia mia Ho iniziato a provare emozioni Nei confronti di varie cose Che non avevo mai provato A volte Fa un po' paura Gioia Ma se stare con te Può aiutarmi a cambiare Allora voglio fare tesoro Di questi sentimenti Aegis mi ha mostrato La propria Determinazione Il mio legame Con Aegis Si è rafforzato Eone livello Due Ho parlato Troppo a lungo E ancora gennaio Quassù il vento Può essere molto freddo Sarebbe un peccato Se ti prendessi Un raffreddore Ma perché? Abbiamo deciso Di tornare al dormitorio Ok Aegis È l'ultimo social link A cui devo prestare Massima attenzione Ma Ho altri due Social link Al nove Mancano tre settimane Il destino del mondo Ora tutto questo Non mi preoccupa Mi interessa solo Andare avanti Ridonda man Colpisce ancora Ok Yukari Aikis E Koromaru Koromaru Sembra Voglio andare A fare una passeggiata Eh vabbè Dai Andiamo a fare Una passeggiata Giro Ci stiamo incrociando Spesso Vero? Sono passata in libreria Non mi sono resa Conto dell'ora C'è sempre più gente strana In giro Wow Assolutamente no C'è Batman Io e Koromaru Siamo tornati Al dormitorio Ok Domenica Domenica Come Domenica Come Domenica Mi non rende Il canzincino Orecchiabile Grandi affari Tanaka Soto Naka Una nuova puntata Prodotti favolosi L'oggetto di oggi è Quattro stemmi salvezza Uno per ciascun membro Della famiglia Vi terranno al sicuro Ma non finisce qui Abbiamo anche un set Di quattro zaini A prova di disastro Quanto sarete disposti A pagare? In realtà costano solo 29.800 yen Aspettate l'apocalisse Con stile Che succede? Sento le urla Della gente Sento i telefoni Che non smettono Di squillare Abbiamo già esaurito Tutto Piacente Ormai non abbiamo Più nulla Ci vediamo Domenica prossima Stessa ora Stesso canale Ma come? Tanaka Non puoi farmi questo Ok Sì beh Dimenticavo che c'è anche La dannatissima Domenica Tetto Spinaci grandi Piantiamo Perché devo pagare Le patate Tanto Ok Mappa della città E qua Non c'è proprio Nullissimo Da fare Sattuario Naganaki Dormitorio Beh Madonna Queste sì Devono essere i volantini Lasciati dalla strega Dagli strega Ok Aegis Aegis non voglia assolutamente Perdere nulla I guess Eppure è gialla Ok Tra poco Sarà buio Torniamo in camera mia Non fare comunque Nulla Si è rimasto nella tua stanza Per tutto questo tempo No Ero invisibile Ciccio Ok E la sera Tesa è finita Tu vuoi cucinare Tu vuoi fare cose Ho fatto un po' di studio Voglio sperimentare un paio di cose Ok Certo Vediamo i chicchi Li studi Inizio subito Ok Bravo Bravissimo Hai fatto un ottimo lavoro È bravo È bravo È quindi Ok Fa schifo Mi è piaciuto anche l'aroma Sento un po' di nostalgia A dire Ma perché è la nostalgia? Caffè decente Tu va pure Resterò a fare un altro po' di pratica Per cercare di migliorare A fare il caffè Caffè è migliorato Che ci Io ho bevuto un sacco Mentre facevo pratica Sì ti capisco Bimbo ti capisco Ok No 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 Non vacanza Non vacanza Non vacanza È il giorno della maggiorità Ma sono un minorenne Ma no 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 dorato che siete pomodori gialli ti voglio tanto non lo prenderò mai ma qualcosa per te ci sono gli sconti in armeria andiamo in armeria perché centro commerciale polonia tra poco ci sarà la battaglia finale capito quindi devo essere bene equipaggiato ok vendi oggetti già tutti venduti comprarmi ma cotto ma cotto per yukari magia più 5 ma 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 confusione media no arco di yuki equipaggiamolo male e vendiamo questo tu 328 potenza taglio no ti lascio quello che hai questo si per te per a kinko vendiamolo ha avuto tarukai o no questo lo tengo per mitsuru aigis mai ok 50 hp ok equipaggia e vendiamo attena per potenza taglio ok armatura corazza d'argento ah si vendiamo questa yukari riduce danni da oscurità riduce danni da taglio no facciamo i danni da oscurità vendiamo no va bene così junpei junpei no questo junpei è proprio l'ignoranza fatta da persona quindi a kiko a kiko a kiko equipaggiamo e vendiamo nitsuru 320 le due c'è danni da fuoco però era importante ma pazienza vendiamo e vendiamo eh ma assolutamente sì assolutamentissimamente sì ok corazzo d'argento no questo va bene kurumaru ma proprio sillissimo ok calzature illusione magica bassa ok non a te non a te illusione fisica alta no tutte le statistiche no tutte le statistiche no per te sì forza più 3 va bene questo forza più 3 mi serve scan tutte le statistiche più 3 no ok compra accessorio fisica sopporta luce oscurità guarigione rapida ok si usciamo fatto tutto ma poi porca di quella miseria perché il giorno libero ma no non lo voglio il salvatanai o ganesha si aumentiamo la forza si aumentiamo la forza di satana la forza della persona equipaggiata aumentata di 3 oh salve oggi è il giorno della maggiore età non voglio che la mia vita finisca prima di diventare adulto prima facciamo di tutto per vincere yuki-kun e poi come sempre torniamo qui tutti insieme ok ok suppongo no che sto a fare sia meglio io un terzo salvataggio ora che siamo prossimi alla fine proprio perché percepisco la calma del il tutto potrebbe ottenere presto una nuova abilità presa certo mi andrebbe del tè oggi vorrei preparare uno snack che si abbina bene con il tè ma per quale motivo ok assolutamente no carume che è? allora non devo spiegartelo cominciamo ma chi se ne frega dobbiamo andare avanti per prima cosa mettiamo lo zucchero nel mestolo ma perchè ho preparati i carume yaki con mizuru carume yaki asci il sapore che mi mette nostalgia potrebbe non necessario giorni nella cucina e il gusto non è particolarmente complesso ma sono abbastanza di questi e più di tutto è bello che possiamo farlo noi oh gioia sai quando ho visto questo per la prima volta ho provato a farli bruciare però potremmo definirlo un ricordo dolce amaro ma non mi sono arreso ho continuato a provare che ne pensi che sono buonissimi è davvero stimolante oh sentirtelo dire mi renda fiera di averlo condiviso back home there were plenty of opportunities to host formal dinners and tea parties brauuu wow permette di conoscerci meglio ahhh 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 uuuu devo creare l'occasione per cambiare cucinando questo piatta nostalgico mizuru ha scoperto qualcosa di nuovo su se stessa cosa è? boom caratteristica di mizuru super danno alterazione aumenta di molto le scienze di critico su nemici con alterazioni semisture in battaglia it's fascinating the kind of things you learn by simply inviting someone over for tea thank you mi piacerebbe parlare così qualche altra volta ma più wow ti andrebbe di aiutare a preparare un altro po' sì è vero ok torniamo a scuola visto che già abbiamo saltato un lunedì ehm sento la gente che parla volevo farti vedere la rivista uscita oggi in edicola quale non dirmi che riguarda la sete ultimamente dicono tutti che la fine è vicina che gli prende tu leggila scoprirai la verità no la prima campanella ha suonato pomeriggio no no io picchio qualcuno brillerei come il sole sapete che significa placcare vero? è un processo per ricoprire gli oggetti con uno strato metallico per lo zincato sì ho sonno ah siamo svegli sì sì ma chi se ne frega ma per favore prova il sole ok ora sono anche ammaliante dopo scuola ovviamente Aigis anche se no c'è il kaisuke koso quindi Aigis oh ma kotosan stai già andando via? allora vengo con te vedi affinità sociali Aigis è ancora confusa dal cambiamento subito ma alla fine riuscite a comprendere che questa è la sua vera natura e l'ha accettato Aigis passiamo il tempo con Aigis grazie infinite fuori fa freddo dovremmo tornare subito a casa vediamo quando è il prossimo treno che succede? che succede? che c'è? i cani gatti tutti wow is potrebbero essere pericolosi sembrano molto arrabbiati siete quelli che vedo spesso al santuario qualcosa non va? wow wow cosa? koromaru san? cosa pensate? non stiamo trattando male koromaru san cosa? no stai parlando con cani e gatti questi sono i vecchi amici di koromaru sono i vecchi amici di koromaru dato che di recente si fa male più stessa come possiamo spiegarci? ma che cazzo ma che cavolo ne so di loro come stanno le cose questo è tutto un misunderstanding tutti ok grrr is per favore calmatevi per favore hop ha tentato di mordere la gamba ed è rimasto coi denti kai mi dispiace la mia mano è dura kai no è rimasto male capisco per loro il mio corpo è del tutto innaturale spero che quel cane non si sia fatto male nooo non piangere ultimamente stavo pensando ma nooo certo se ci pensi è ovvio ne è abbastanza morbida per essere umana ne è del tutto macchina ne è abbastanza umana ma non è vero ma non è vero esatto non è vero ma no holy shot mi spiace Makoto-san una stellina meno male grazie devo essere fedele a me stessa che c'è scusa per aver fatto tutto questo discorso non avrei mai conosciuto tutti voi e neanche te se non posso stare al tuo fianco nulla può farmi vacillare lo so però percepisco il tenue tenue però affetto di Aigis boom livello 3 ancora ancora devo assicurarvi che gli amici di Koromaru-san capiscono la nostra situazione non voglio che tu ti trovi di nuovo in pericolo Makoto-san ci vediamo dopo ti prego di scusarmi ok Aigis è andata via ho salutato Aigis e sono tornato al dormitorio se c'è tutti i giorni è bellissimo entro questa settimana può ecco eccoci qui stiamo per andare tutti da Agakure vieni ok ok certo tutti se c'è da tutti vengo anch'io wow facilissimo ricordi quella scommessa a Yakushima probabilmente non ti ricordi neanche più alla fine è vinto anche se si trattava di Aigis mi ci sono venuto i sei mesi per farglielo accettare dobbiamo muoverci ok va bene a tutti lo speciale si per me va bene ok cinque speciali per favore cavoli è grandioso a te non a me perché sei scemo ancora con questa storia una scommessa è una scommessa una scommessa è una scommessa paga non ho mai detto che non avrei pagato anche tu dubiti di me? no ma il titolo ha attirato la mia attenzione rivista? qualche rivista? questa questa la comparsa di un messia parla all'uomo carismatico oh, deve essere sull'epoca ne parlano ovunque anche su internet eh? guardate un po' il cosiddetto messia ma cosa? ma quello è Takaya? si è Takaya il leader degli strega quindi alla fine sono gli strega ho perso l'appetito sentite qui l'umanità al momento è schiava dei peccati d'odio e rabbia una scommessa una scommessa una scommessa una scommessa una scommessa una scommessa ma presto dai cieli giungerà qualcuno a salvarci per spezzare le nostre catene ed elevarci verso nuove vette mi ha benedetto con un potere inimmaginabile all'arrivo di Nix non ci saranno più dolore né sofferenza l'umanità verrà liberata come diavolo fa a sapere di Nix? come diavolo fa a sapere la setta di Nix? sta dicendo che Nix salverà il mondo ma non è vero non penso che gli importi davvero per lui è tutto un gioco bastardo ma alcuni non comprendono tale verità nonostante si stessi siano stati benedetti da lei hanno ottenuto il mio stesso potere ma ne abusano per i propri scopi personali sta parlando di noi ovviamente ma parla di noi? Sì! sono soli di azzia sshh, non così lungo! siamo soli qui sai? e cosa intendo con quel carismatico? come è che ora è famoso? beh... apparentemente Jin era già molto noto su internet probabilmente è bravo a influenzare il sentire del pubblico sì! credo che ha orchestrato il risultato di Takaiho per creare il suo brand come un celeb madonna che schifo eh... i due mi fanno venire volta stomaco a me mi fanno venire rabbia sia per Shinjiro sia per Chidori per tutti coloro che li hanno affrontati e sono morti fratelli e sorelle farò i dovuti preparativi per l'arrivo di Nyx nix raddresserà i loro torti che i vostri cuori si colmino di pace in attesa della salvezza siano benedetti coloro che gioiscono per l'arrivo di Nyx ho capito fratelli e sorelle rivoluzione? la gente non crederà davvero a queste cazzate, vero? forse l'unico modo per cambiare questo futuro incerto è il potere di un individuo estremamente carismatico l'articolo termina così sembra che dopo l'intervista gli strega siano spariti di nuovo beh, c'è solo un posto che potrebbero essere andati solo in un posto il tartaro stanno solo facendo sprecare tempo a tutti e questo è vero la gente deve essere terrorizzata nel profondo anche se non lo dice sì, probabilmente è vero non hanno modo di sapere che cosa è vero non mi stupisce che si senta aria di apocalisse moriremo tutti ma è qualcosa di così sconvolgente? la vita è un termine per se stessa la presenza di Nyx cambia qualcosa? non lo sanno forse tutti gli umani sì, è vero, però ho capito non accorciarla così tanto non sono pronta a morire immagino di sì non avrei mai pensato alla mia morte se non fosse successo tutto questo ma ormai ci siamo, perché non lasciamo perdere? il nostro obiettivo è Nyx se gli strega si metteranno in mezzo ci occuperemo anche di loro non c'è altro da dire concordo probabilmente ce li ritroveremo comunque nel tartaro a prescindere da tutto ci vogliono fuori dalle scatole il giorno fatidico è quasi arrivato eh? dobbiamo fare il possibile fino ad allora innanzitutto ci serviranno un sacco di energie papà prendo anche una ciotola agakaru non ti dispiace vero Sanada-san? oh, Junpei non avevi detto che devi mangiare anche metà della parte di Aigis? no, tranquillo, ho una fama assurda ti conviene mangiare tutto boh ok Nyx sta arrivando e saranno cavoli per tutti bene, per oggi è tutto appuntamento al prossimo video ciao ciao